...fra me e te, eh? Ecco, bravo! Ecco, io no, vedi? Vuoi un paio di domenica? No, grazie! Invecchia! No, no! E che invecchia, ringiovaniscano, perché la vista pare giovarsene! No! Ci siamo? Possiamo cominciare? E sono un po' salumatico! E sono un po' appannato! No, sputano! Grazie, salumatico! Non ho dimenticato! Capito, ma mi devi pulire anche mia? In tasca? Sputa, sui tu, a te, ce l'ho in tasca, mi sputa sugli occhiali. i miei per pulirli. Sputa, è vero, sei l'ospite dovevo fare. C'è lo sputo acido, perché attraversi il pantalone. Proviamo! Dai, proviamo! Vai! Aspetta, pigliamo il leggio che non ce la fa a recido. Ah, vai, vai, aspettate! Proviamo, vai! Sei così, bravo! Parto io, parto io! E' più un civile! Quarantenne ragioniere Cerca un posto Da te, in possesso pure di patente cipo, compro golf, cipi, al posto lì, questa vecchia avisa, tutti in grado, tutti in Citroën. Porta portese Porta portese Porta portese Cosa avrà di più? C'è un altro episodio La tocca a te, guarda Te l'abbiamo scritto grosso qui, guarda C'è un altro episodio Guarda, facciamo, vediamo questo Trilocale con balcone Vista a fronte Cupolone Termo autonomo E completo Di tipo Questa è la foina, eh Pionda alta e provocante Fa un messaggio rilassante A stenersi per di tempo E figli di Porta portese Porta portese Porta portese Cosa avrà di più? Porta portese Porta portese Porta portese Porta portese Porta portese Cosa avrà di più? C'è un'ultima slow run Porta portese Grazie Claudio E' sempre bellissimo venire qua E' bellissimo venire a vedere te e sentire te E cosa avrà di più Claudio Baglioni Giorgio Paganiello Grazie Che generoso Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a Giorgio Tanti auguri a te Scusate il disturbo, buonanotte, grazie Auguri, grazie di aver festeggiato Viva la Pedusa Ciao